secondo incontro d'inizio anno 2020 della camera di commercio di bolzano alla cantina bolzano persone e merci in movimento questo il motto dell'edizione 2020 dell'iniziativa anche il trasporto pubblico locale nei centri urbani vive un periodo di transizione adoperiamo grandi nuove infrastrutture attorno la città adoperiamo anche interventi sostanziali in città ma soprattutto adoperiamo un cambiamento di ragionamento che la macchina propria non è l'unico mezzo che serve ma che i cittadini e non solo i cittadini di bolzano anche dei comuni limitrofi prendono anche il mezzo pubblico che poi diventa puntuale però città e trasporto merci le dimensioni di una sfida il titolo dell'intervento dell'ingegnere stefano ciurnelli esperto nella pianificazione della mobilità e dei trasporti in futuro sarà indispensabile una logistica urbana sostenibile che abbia l'obiettivo di progettare a lungo termine un quadro complessivo per il trasporto merci e il traffico di consegna nell'area urbana il presidente della cantina bolzano michael brad warter ha tenuto una presentazione sulla storia della cantina bolzano e sui suoi vini più conosciuti grazie grazie grazie